musica 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 Dichiarala, dichiarala in chat Abbi il cuore Abbi il cuore di confermare quello che hai appena detto Se vinceste Per questa settimana ti faccio 5 sab Alla prossima vai Hai che fa Gabri, ecco il momento eh Tu il pantino eh Fammi avere il telefono, almeno me la guardo Mi dissocio Charles, non so cosa tu stai dicendo Se quelle 5 sab succulenti Se quelle Se quelle 5 sab succulenti Se quelle sub Oh no, beh ultimo Guarda, guarda Tanto volerò fuori subito, lo so Dai Robottino Ora è il momento di tagliar da davvero eh Momento di tagliar da Forza Ma vatali come spinge Cioè mi sta chiamando lei mamma davvero ora? Cioè non è giusto eh Ma non me lo merito Ma non mi 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 lo merito Fai cari! Dimmi 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 Dio Cristo Dio Cristo Dio Cristo Cino game è sempre easy Si peccato ora è da una pene la spesa Dio merdoso Dio cani so se è brutto capri ma è lo stesso, cioè non aspetta dai, se ci sono cinque saberglide assieme o dai che fai non aspetta? serve qualcosa a team, serve qualcosa a team tipo la coda la perdi niente si, dirai che sta succedendo vado a mi spingersi male, vado a mi spingersi niente, poi di qua, di qua, di qua dai, dai dai dai, dai ma è stato un vincolo, è andato via che sfiga oh ma che carico niente questo che passo le mutande, ora esco in mutande, fai una volata appena vedi che sta per cascare stacca il telefono stacca 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 no appena vedi che sta per tornare con la spesa raga volate velocemente scegliere chiaramente ma tu mamma se la lì davanti senza, senza vedo vai sotto oh ma si è troppo forte niente guarda guarda il traiardino ma il Gatorade non ti ci lascia da sinistra sulla destra se mi chiamano si, pronto che è guardate guardate non vola mai non vola mai un fenomeno assurdo raga avevano anche consigli dalla chat addirittura rosa, azzurro sono più lenti non mi resta che sperassi qualcosa al team non mi resta che sperassi al team che se non si rovinavo ti prego ciao ciao è finita è difficile per chi abita sottoterra arriva un altro consiglio dalla chat si dirige una cosa fare in caso di vittoria eh no è quella con la coda veramente no dove è andato? andava più alla spesa ma che lei ma che lei è scemo rip ma che lei è scemo? dove è andato? mi ha perso mi ha perso 5 sub ma per me rimaneva fuori aspettare è già tornato dove sei? dove sei? vai vai arrivo arrivo vai arrivo ok ah 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 in quel momento dammi sta coda dai 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 è passato è passato è passato Mi sa di sì, se l'ho detto arrivo Vada che culo, vada che culo No, voglio morire, dai, 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 non scherziamo, non scherziamo, è andata di lusso Ci dovrebbe essere uno lì sotto Ma è che lei, triathlon? Dio porco Niente, niente 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 Io Cristo Cazzo Dite me Dai, no, no No Non dice la finale No Niente Non ce la fa Vabbè, passa sicuro, dai È la cosa più semplice del mondo Ma questo è un easy win Scusa, fanno Ah, direttamente la fin... No, no, passano in save Eh beh, tu l'ha presa la prima Vabbè, passa in save, dai, semplicissimo Guarda i consigli di Luigi, se stai vicino ad una che trema è sbagliata Eh beh, Luigi, felice eravamo tutti, eh Non per dire Vabbè, passa, guarda Questa è la carina Oddio, si male È tutto a dritto, è tutto a dritto No, non è tutto a dritto 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 Quindi, ovviamente, ti vancino Che giovane È tutto a dritto Le hai paura È tutto a dritto Sì, Simo, 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 lo vince sicuro, ma è che le scarci sono questo, dai, sì, io vi faccio schifo, infatti, infatti, non è volato nessuno, non ci vedo, come l'ha fatto non volare? Non è andato zitto, 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 mi sono sentito male, che l'ha fatto, la capeola, quello, come fa, come, che cazzo è possibile, lo so castare, infatti, è quello di anch'io, vabbè, me la vogliamo far perdere, dai, no, perché se la gioca, mi ha detto, no, e ce l'è sempre sa ben palio, e qui ci dice, fermi, 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 Sì, 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 Oh nono! That's not me! No. No eh? No no, ancora in game, senti se... Siii! SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ci voglio niente! Allora, questo non vince nemmeno lei sa stai va a vincere ora va a vincere come cosa ha fatto a vincere? no 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 qui c'è calciopoli no 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 clippate 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 cappe vai a morire clippate che questa non è mai una tua vittoria ma mai nella vita mai nella vita c'è questo è un vincicolo e sassai veramente va a vincere ora vabbè io vi saluto alla prossima live arriveranno alle 5 sab con voglianza ciao